Darsi la possibilità di essere se stessi è una delle cose più difficili che un essere umano, soprattutto al giorno d'oggi dove si vive pressoché solo di superficialità, è tra le cose più difficili che è possibile fare. Ma qual è il significato della parola essere se stessi? Potrebbe essere equivalente come ogni cosa. Ci possono essere più modi di vedere una situazione. Una situazione può essere vista da un punto di vista più superficiale e quindi essere se stessi indossando le cosiddette maschere dando energia a quegli io che prendono possesso di ciò che noi realmente siamo. E quindi all'esterno andiamo a indossare una serie di maschere, di caratteristiche che sono parte di noi ma che non siamo realmente noi. Ed ecco che ad esempio quando ci troviamo in un contesto familiare, in un contesto con altre persone, indossiamo la maschera della persona per bene magari, che deve essere. Deve avere buon viso, deve assecondare il volere degli altri, deve sorridere, deve annuire, anche se magari il discorso dell'altra persona non è poi così attraente. Però bisogna sempre fingere, sempre fare buon viso a cattivo gioco spesso. Trasliamo la persona dall'ambito familiare all'ambito sociale all'ambito del lavoro. Anche al lavoro una persona indossa quella che potrebbe essere definita come una veste che è parte di lui, è una parte di lui o di lei, ma non è realmente lei. Il fatto che come un attore sceglie il personaggio da personificare, da interpretare, noi non siamo degli attori perché nel momento in cui ci troviamo in una situazione e mettiamo in scena un personaggio come quel che sono io al lavoro, quel che sono io nel contesto familiare, quel che sono io con il contesto sociale in generale. Quella personificazione non è scelta da noi. Noi non è che andiamo, usciamo con i nostri amici, con le nostre amiche e decidiamo di comportarci in un determinato modo, perché quel determinato modo in cui ci comportiamo parte in automatico. E qui c'è la distinzione tra l'attore e la persona, la persona comune. L'attore sceglie con coscienza, con volontà di interpretare quel determinato ruolo e si immerge totalmente in quel ruolo. Lui diventa il personaggio, ma lo diventa ad un livello diverso dalla persona normale, perché l'attore con la sua scelta prende una decisione. Lui sa di non essere il personaggio che magari interpreta in un film, però durante il cortometraggio lui è quel personaggio, ma all'interno di sé non cade nell'illusione di essere quel personaggio, lo interpreta. Invece cosa accade nella vita di tutti i giorni? Nei vari contesti dove ci troviamo, le maschere utilizzano noi. Quindi essere diversi in determinati contesti è all'ordine del giorno. Quando siamo da soli siamo completamente altre persone rispetto a quando siamo in compagnia di altri. E dipende dalla persona che ci troviamo di fronte, cambiamo il nostro atteggiamento nei suoi, nei loro confronti, in base a se sono una o più persone. Quindi la domanda, cosa significa essere se stessi? È una bella questione, perché è difficile. Bisognerebbe andare, retrocedere dietro tutti questi io che ci usano, perché non siamo noi ad utilizzarli, non siamo degli attori coscienti che vanno al lavoro e scelgono di indossare quell'abito. Veniamo utilizzati da quell'abito, quell'io si utilizza. A meno che non ci rendiamo conto di questo e scegliamo di avere un determinato tipo di atteggiamento in un determinato tipo di contesto. Allora lì inizia la disidentificazione con quell'io. Ma essere se stessi è un'altra cosa. Essere se stessi è forse quello che si avvicina di più nel momento in cui una persona si trova da sola con se stessa. Lì iniziano ad emergere tutte quelle cariche emotive interiori che nella distrazione sociale è difficile andare ad intercettare. Essere se stessi, porsi la domanda e aspettare che la vita ci dia la risposta è forse l'unico modo per avere questa questione risolta una volta per tutte. Grazie.